Era specializzata nel compiere furti con destrezza, la banda composta da una donna e due uomini, tutti romeni sui 30 e 40 anni, identificata ieri pomeriggio durante un controllo congiunto a porta maggiore dagli agenti del commissariato di Fano e dalla polizia locale. Poco prima era giunta la notizia di un furto a Pesaro ai danni del titolare di un negozio di ortofrutta. Una donna con la tecnica dell'abbraccio aveva sfilato il portafogli alla vittima per poi scappare. A Fano poi intorno alle 18. Gli agenti hanno notato la macchina sospetta a fermarsi nelle vicinanze di alcuni esercizi commerciali di Viale Gramsci, dove probabilmente la banda voleva colpire ancora. Una volta fermata è stata eseguita la perquisizione. La donna, trovata in possesso di 1000 euro, ritenuti provento del furto appena compiuto a Pesaro, è stata arrestata mentre i due complici sono stati denunciati per ricettazione. Nel mirino dei malviventi c'erano gli anziani ai quali sfilavano portafogli, collanine o orologi a seconda delle situazioni e colpivano prevalentemente nei pressi dei luoghi da loro frequentati, come poste, panetterie e negozi di ortofrutta. Oggi pomeriggio il giudice ha convalidato l'arresto della donna e disposto nei suoi confronti il divieto di ritorno nella provincia di Pesaro e Urbino. Il processo, invece, è stato rinviato ad aprile. Il processo, invece, è stato rinviato ad aprile.